ciao ragazzi nulla nulla contro nessuno però ognuno può dire tutto quello che vuole su youtube però a me l'arroganza da noia quando sento dire non ci provate non sapete cosa vuol dire una contrattura l'ho presa io per me perché io avevo detto e secondo me c'era un augusto sarebbe stato fermo una ventina di giorni poi non so nemmeno se era diretta a me sinceramente però non ci provate nemmeno non sapete nemmeno se è una contrattura anche meno secondo me va bene lo stesso non c'è bisogno di autocelebrarsi a medio quando non sei un medico cioè ma ma anche per gli stessi utenti è come se tu gli dessi di imbecilli no non ci provate la gente che aveva paura per ciala no non dovete aver paura non sapete quello che dite l'ho presa come se avessero risposto a me con molta arroganza supponezza ma anche meno anche meno anche meno secondo me va bene Mkhitaryan che dice te il play lo posso fare è vero perché Mkhitaryan alla Roma l'ha fatto il play con Mourinho e l'ha fatto bene addirittura Mourinho non voleva che la Roma accedesse Mkhitaryan e se vi ricordate Mourinho provò fino in fondo a tenere l'armeno ma lui aveva già deciso di andare via il problema di Mkhitaryan play Mkhitaryan in quel ruolo cioè spesso quando quando fai il play perché è un ruolo massacrante sia a livello fisico e mentale perché quando un tuo compagno sbaglia un appoggio devi scattare subito e porre rimedio per esempio Barella qualche errore in fase d'appoggio lo fa ma a livello fisico Mkhitaryan terrebbe quei ritmi che deve tenere il play che deve comunque eseguire determinate direttive tattiche perché Cialanoglu si fa un culo così ragazzi corre tantissimo con Mkhitaryan di basso medio livello secondo me puoi mettere anche Cialanoglu play ma quando si alza il livello devi mettere Barella che non è Cialanoglu Barella play secondo me gli vai a togliere anche una delle sue armi migliori ovvero sia l'insedimento però ripeto Aslani contro la Juve se sta bene dovrebbe giocare lui ma dipende anche un attimino da da come reagisce Barella in quel ruolo lì comunque a parte questo ha del clamoroso quello che scrive panorama eh ovvero sia vi ricordate stadio a Rozzano stadio già fatto anche su YouTube era già tutto fatto a Rozzano assolutamente no perché l'Inter eh svolta l'Inter e Milan restano a San Siro con un nuovo stadio quindi l'Inter e Milan come lo sapete io ho sempre detto che l'Inter sarebbe rimasta a San Siro contro tutto e tutti contro contratti filmati un po' come Pinco 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 e quindi Inter e Milan restano a San Siro poi questa ragazzi è una soluzione che può piacere o meno ma i club hanno deciso di tornare sul piano originario del duemiladiciannove e l'hanno comunicato attenzione al ministro Giulio a breve la manifestazione di interesse ufficiale ultimo stavolo il prezzo per l'agenzia delle entrate eh che farà per il vecchio impianti impianto quindi panorama dice adesso il dato è tratto eh Inter e Milan rimarranno a San Siro con poi posterò l'artirlo di panorama con un nuovo stadio quindi ragazzi eh io sono contento perché secondo me l'Inter è giusto e gioia a Milano città che comunque eh Milan le Milan ragazzi anche se purtroppo la dovrebbero rendere una città un po' più sicura io parlo con tantissime persone che abitano a Milano voglio dire una cosa a parte questo dello stadio perché ho fatto quell'appunto sull'arroganza e sulla supponenza perché a me fu dato di razzista perché io eh praticamente criticavo Zhang poi dopo abbiamo visto come è finita con il loro presidente no che come è finita con Zhang che non si era reso conto prendi prendi in esame il comunicato che fa Zhang quello è un comunicato di una persona che ancora non ha preso coscienza di quello che sta succedendo voleva andare avanti ancora con debito paga debito e non era più possibile quindi il loro presidente poi alla fine ci ha fatto andare a rotoli a livello finanziario e avremmo avuto tutti i presidenti di Serie A contro proprio per l'iscrizione al campionato comunque io criticavo le scelte finanziarie scellerate di Zhang e criticavo il fatto che l'Inter non potesse avere un presidente senza un euro e che non potesse investire un euro e che non potesse fare debito paga debito e a me mi fu dato del razzista attenzione eh per quello io ho fatto anche quello appunto stamattina perché a me fu dato del razzista io e i miei amici in tutto il mondo io anche per lavoro colleghi sparsi in tutte le vali filiali nel mondo e sento non ti dico quotidianamente ma settimanalmente cioè a dare del razzista a me ora capisco non tu mi conosca ma ragazzi per dare del razzista a me hai sbagliato proprio persona perché per me siamo tutti uguali gialli neri verdi o arancioni siamo tutti uguali quindi ecco perché poi dopo eh gente che deve difendere il proprio articello per i propri motivi eh diciamo personali perché devono ottenere una una determinata linea e poi ovunque io voglio far notare una cosa ragazzi quando uno ha sempre una linea difensiva alla fine cioè è impossibile che vada sempre tutto bene ci sarà ogni tanto qualcosa non ti dico da da criticare ma ci sarà ogni tanto qualcosa da analizzare o è sempre tutto rose e fiori come il mercato da dieci che non c'è di quest'estate non c'era bisogno di un difensore e di un centrocampista problema poi del centrocampo dell'inter che io l'ho sempre detto quest'estate e sono contento ci siano ancora i video online eh è che serviva un cotitolare di Cialanoglu e non c'è in questa squadra perché è vero che Aslani non è Cialanoglu Aslani secondo me dovrebbe fattire anche da mezzala purtroppo Aslani non per l'età che ha è comunque un giocatore interessante ma non ha fatto per miglioramenti che doveva fare per essere un degno sostituto di Cialanoglu quello ragazzi siamo tutti d'accordo però ecco è che una mattina si sveglia non parlate non sapete cosa dite e invece no poi dopo Cialanoglu faremo 20 giorni forse forse di entrare in Venezia secondo me dipende molto da come Barellino reagire a play altrimenti con le squadre un po' più diciamo meno periolose tra virgolette può esserci anche Ciala che ripeto alla Roma lo ha fatto il play con Mourinho anche bene però metti qualcosa e togli altro perché di Cialanoglu c'è solamente uno è una squadra deve fare cinque competizioni e settanta partite secondo me dovrebbe avere un sostituto di un giocatore fondamentale come lui e per caratteristiche questa rosa non c'è tutto qua ciao a Viter